Movimento in aria, parte cross, è pericoloso, messo fuori Dangotti, pasticcio e gran gol! Gran gol! Proprio Porrini sotto misura approfitta di un incredibile errore della difesa parigina. Tutto è pronto, vedete l'Eguen del Piero, un abbraccio tra i due, parte cross, pericolo Padovano, gol! E' il raddoppio, Padovano! E' grandissimo il gol, è salito in cielo, in paradiso. Recupera ancora Zidane, è un tiro a cross pericoloso, gol! E' il terzo, è il terzo, è stato Ferrara, svettare su tutti. E' sempre pericolissimo, i calci piazzati ancora una volta, Zidane. Zidane, basso, quasi autogol, Lama! Padovano, gol! 4, 4, Padovano ancora, era stato bravissimo Lama, ma Padovano non ha perdonato, 4 a 0, cappotto incredibile a Paris Saint Germain. Nel primo tempo si è scatenata, realizzando 4 reti, e adesso però sembra voler tornare sulla falsa riga degli ultimi tempi. Sbagliando molto Lombardo, Lombardo mette dentro! Finalmente arriva il quinto gol, era nell'area da diversi minuti e lo segna Lombardo. Parti cross, Kennedy, Leonardo, Del Piero, Del Piero salta, doppio tunnel, Amoruso, Amoruso, sinistro e reta! Ancora la Juve in gol, gran gol di Amoruso, è il 6 a 1, è finita! Grandi applausi per la Juve e fischi per il Paris Saint Germain! Vittoria clamorosa della squadra di Marcello Lippi, 6 a 1 in questa finale d'andata. È naturalmente una grossa ipoteca sulla vittoria finale, ma non c'è nulla da eccepire. Una vittoria, ripeto, che forse sembra paradossale dirlo, va anche al di là del punteggio. Grazie a tutti!